Cinque tecniche di manipolazione occulta del narcisista. I narcisisti usano anche tecniche di manipolazione nascosta che non sembrano manipolazione ma in realtà lo so, ne sono anche una manipolazione molto molto accentuata. La prima è il gaslighting, questo termine deriva dal film Gaslight nella quale il protagonista cercava di convincere la moglie di essere folle, manipolando gli oggetti dell'ambiente, spostando le cose, facevano notare che lei si sbagliava e che quindi stava perdendo la memoria, non era più in sé. Il narcisista di solito usa negando di aver detto certe cose oppure affermando di aver detto certe cose che in realtà non ha detto ma che ti fa dubitare della tua integrità mentale. Il secondo tipo di abuso narcisistico è il silenzio punitivo, è una tattica di manipolazione mascherata, è un'indifferenza associata al silenzio perché aumenta il livello di ansia nella vittima che ovviamente non è una sconosciuta ma è una persona con la quale normalmente ha una relazione sentimentale affettiva ad esempio. Il narcisista usa il silenzio punitivo appunto non rispondendo, mostrandosi freddo, distaccato, tende la corda e l'altra persona magari si scusa di qualcosa che non ha fatto oppure accetta delle situazioni che non gli piacevano. Terza tecnica è la proiezione, cioè proietta sugli altri cose che ha lui, ad esempio accusa l'altra persona di essere infedele quando lui è infedele, accusa l'altra persona di essere menzognera quando lui è bugiardo, insomma proietta cose che ha lui. Quindi occhio che se qualcuno proietta cose su di te è perché le sta facendo lui. E poi ci sono delle intimidazioni nascoste, utilizza delle tattiche di manipolazione emotiva, ci sono delle minacce indirette, implicite, se continui così sarò costretto a prendere dei provvedimenti, se continui con i tuoi amici la nostra relazione ne risentirà. Ecco, tattiche di manipolazione, minacce nascoste. Poi il vitimismo. Il manipolatore fa leva sui sensi di colpa, sulla forte empatia della vittima per indurla a compiere determinate azioni passando come vittima, vittima di te o vittima del mondo, quindi fa leva sui sensi di colpa. Ecco, questa è un'altra tecnica di manipolazione nascosta, utilizzata molto spesso dal narcisista, insomma. Per difenderti devi prenderne atto. Seguimi su YouTube, Massimo Terramasco. Ciao.